All'edizione autunnale del Milano iFidelity, in programma sabato 7 e domenica 8 ottobre all'Hotel Melià, ci sarà anche Audio Living Design con i diffusori Albedo a Gadia. Saremo a Milano il 7 e l'8 di ottobre per il Milano iEnd al Melià. Saremo anche a Roma per fine novembre. Quindi sempre Roma ai Fideli di consegno. Ai Fidenti, esatto. Allora, in anteprima posso già dire che per Milano esporremo il modello Albedo a Gadia, dove suonerà in una bella sala insieme a tutte le elettroniche della Soul Note, questo nuovo marchio giapponese che noi distribuiamo da quest'anno, elettroniche di livello, di grande qualità. Con soluzioni innovative e per certi versi anche rivoluzionari. Invece a Roma che portate? Cosa porterete? Ancora presto? Ancora presto però sarà probabilmente su un sistema tutto tattico, perché noi abbiamo tutti i nostri marchi e cerchiamo di dare delle opportunità per ascoltarli e vedere le novità di fiera in fiera, appuntamento, appuntamenti vari e anche eventi che organizziamo dai nostri venditori. Quindi, caro Davide, appuntamento a tutti sabato 7 e domenica 8 all'Hotel Melià nella sala di Audio Living Design. Al piano terra, certamente, vi aspetto a tutti. Grazie, buona giornata.